Ciao a tutti ragazzi, qui è UndergardKeyParla e bentornati in questo nuovissimo video di Strucid su Roblox Allora, oltre che mi sono incastrato, vedo un po' che non gioco, infatti hanno aggiunto anche delle nuove armi Hanno aggiunto una nuova palestra Allora, qua siamo nella King of the Hill, che noia Ehm... Io questo video l'avevo già fatto, tra virgolette Peccato però che non chiedetemi perché ha smesso di registrare da solo Vabbè, comunque, a parte questo Ehm... Niente, dopo semmai quando finisce sta partita vi faccio vedere anche la palestra esplosiva Che io non ho perché, ragazzi, serve... Cioè, o un livello altissimo oppure dei Robux Che io però non ho e non me... e non comprerò, anzi Sto prendendo e non userò mai perché sinceramente non... Cioè, non ha senso Aaaaaah, e quello mi ha ucciso Abdullah Galit Ecco qua, andiamo su Loadout, ad esempio Ed ecco qua, la palestra esplosiva Altrimenti la potrei comprare con i soldi di gioco ma costa tantissimo Ciao Abdullah! Posso ucciderti? C'è un tizio che non prende danni, what? E vola! E vola! Che cos'è un hacker? Sì, vabbè, poi sto schivando in maniera divina Che è Abdullah! No, non è Abdullah! Oh, io cerco Abdullah, caro mio! E vabbè, sembra che fosse morto da danno da caduta Abdullah! Dimmi che spawno lì vicino No, vabbè, vabbè, io ho messo tab per mettere le piramidi però allo stesso tempo con tab mi apre le uccisioni dei plague e io sono... mannaggia a me eh! Sono... vabbè, ho 3 kill A parte questo, dovrebbero mettere il contatore di kill in alto senza che tu devi premere tab per vederlo perché non è proprio molto bella sta roba Mamma mia, sono troppo a parte, dai che recuperiamo tutte le uccisioni Tanto a me non me ne frega niente di sta modalità, me ne interessa fare le uccisioni No, abbiamo 30 secondi, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso, e siamo morti Vabbè, 24 secondi, non credo di riuscire a recuperare 20 uccisioni in così poco tempo Cosa? 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 Stavo volando Ma scusate Ma cosa? Qualcuno ha conquistato la collina, quanto panni Ah, i secondi? Seconds Cioè, va bene Eh, vabbè Se ripartisse la partita potremmo ricominciare Comunque questo è lo shop Per chi non lo sapesse Però c'è anche la balesta esplosiva Poi il samurai comando, sì, se quantomeno Uh, ok, potevo ripartire Ho premuto a caso E siamo ripartiti Questo è morto perché c'è l'altro che gli spara Scoppia Mmm, avessi lanciarazzi potrei dire scoppia Cosa è successo? Ah, è morto? Sembrava fosse finita la partita che ti smonti male quando finisci la partita Ah, questo si chiama Amen Mmm, bel nome Mmm, però ci devi morire Mi dispiace Carino è il tuo nome, però Non sei il benvenuto in questa città Chi è che mi ha sparato? Un cecchino Dal tetto? Un cecchino, voglio dire Ah, sono anche io un cecchino Sì, l'ho ucciso No Perché mi vengono tutti addosso? Ma guarda, tutti che sparano me Ecco chi è, sì, un cecchino dal tetto Ok Dobbiamo pararci e cercare di raggiungerlo Dobbiamo farci scudo tra gli edifici Ok, magari E anche dietro Guarda lì Vediamo se riusciamo a farci un mezzo fortino Ok Aspetta, ma Come me ne mette le scale storte? Benissimo, benissimo Guardalo là Maledetto, maledetto, maledetto Maledetto Cosa ho usato? Ah, ma è una Vabbè, più veloce della mia Aspettate Ragazzi Dobbiamo prenderlo, maledetto Abdullah No, Abdullah Adesso morirai Abdullah Mi dispiace ma È tutta la tua Fine Muori 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 Abdullah Non c'è più Pazzo maniaco Tu sei Pazzo Caro mio Pazzo sei C'è anche Molto il pazzo Però Guarda Sono buttati i cecchini Maledetti Quanti danni ha fatto quello? Mamma mia C'è qualcuno? Non so se ci fosse qualcuno Sì, sì C'è qualcuno C'è qualcuno Boom 104 E scompare ragazzi Troppo forti siamo Prendiamo un po' di legno Perché io mi scordo Sempre di avercela Questo è il pazzo di prima Che ovviamente scoppia Ehm Ah tra l'altro siamo nell'FFA Non ci avevo fatto caso Vabbè Si poteva capire Quando mi sparano in 3 In 5 In 70 Agli 8 Ok Siamo entrati nel palazzo E ci mettiamo Guardate Con cosa io mettevo le trappole Ok perfetto Ci mettiamo delle trappole Polozzi ho preso un colpo Non fossero mie E corriamo 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 Sul tetto Corriamo Ok Siamo giunti al tetto Siamo giunti al punto Desiderato Pum 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 Ah si è messa a riparo Valedetto 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 Devo ricaricare il cecchino E Quello 42 Non in testa però Sempre meglio di niente Questo ha schivato le trappole Ed è salito come un canguro Come flash Ah no Ho messo la trappola E' apparsa Adesso è comparso subito Che senso ha Ah Maledizione Recupereremo però le nostre uccisioni Non sarà un problema Ma ecco già quello Voglio dire Posso spaccarti la vita Eeeh Quello mi spara Quello tipo si è buttato Ma basta rompere Basta Perché si alleano contro di me Si alleano contro di me Adesso questo Macchiello Che non è orrendo Che hai caro mio Esplodo tutti Esplodo Oh L'ho detto Che mi esplodevo Eeeh Ok Vabbè A parte questo Eeeh Dove andiamo Oh 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 Ma ma L'ho visto All'ultimo E non ho fatto Un tempo Eh Amdulla è un degno avversario Amdulla è un degno avversario E che merita Di combattere contro di me Ma non ci deve morire A Terminator mi ha ucciso Cioè Per farti capire Non è neanche Amdulla Pum In testa Oh mio dio Poverino Quel tipo Ma Quelli stanno Facendo teaming Maledetti Ma morite Non si può fare teaming Sì Ti raga Che qua ci faccio La chille Maledetto Quello da dietro Come al solito Che però C'è morto Aiuto Help me Please Help me Guarda gli stanno attaccando quelli che fanno team Beh giustamente Tanto una volta potevi modificare le strutture anche degli altri Ma adesso non più Sì l'ho ucciso Eh vabbè Almeno ho ucciso quelli che facevano team Guarda vendetta Ok Pensavo che eravamo lì in quello alto Peccato Ho visto un tizio? Sì quello è un tizio E anche quello è un tizio È Mattia È Mattia il paraca Il mio camore Sì è morto Godlike Perché è diventato Godlike? Ha fatto un sacco di kill di fila Com'è possibile? È Nabbo Vabbè Com'è possibile Pum 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 E vabbè è morto Mattia il puccidetelo Eh vabbè perché c'ha lo scudo Ecco perché Basta fare una kill Eh l'ho ucciso Sono più forte di lui Quindi sono più forte di uno che fa Kill Come non ci fosse il domani Di fila Quanto cosa Quanto ne ho io? Oh sono terzo Perfetto Beh come ritorno Essere terzi Tanta roba eh Oh l'ho c'è un tabellone Chissà cosa c'è scritto Beh non ci interessa Ok Ok Uh spera spera C'è qualcuno che spara da qua sotto Deve essere morto Ah Bellissimo Ah adesso anche Terminator 9 kill di fila Godlike mod Ok Allora Oh Ma io vedo le persone però Poi scompaiono Me ne so No Quello l'ho visto per davvero Sì 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 Mori Ho detto Ma recupera la vita questo Oh Eh che cavolo Me recuperi anche la vita Eh Allora Ti devo proprio uccidere Eh Ok Ok Eh si è buttato di sotto Maledetto Per non darmi la kill O me l'ha data No Non me l'ha data Eh vabbè Chi ha vinto Oh Terminator E io Vinto Ok A caso Ah no Affari merito quarto Va bene ragazzi Io direi che per questo video è tutto Da qui alla guardia è tutto Ci vediamo ad una prossima puntata